Ciao Babbo Natale, ti ricordi quella bambola che ho visto in tv? Allora, la vuoi andare subito? No, mi sai che non mi hai capito. Babbo Natale, ultimi 15 anni sono bravissima, quindi tu non hai motivo di regalarmi un bellissimo tablet. Un libro? Vabbè, ancora una volta. Ti ricordi quella simpatica bambina con capelli blu? Allora, lei è mia amica. Visto questo, posso avere un sacco di kinder sorpresa. Spacciolino, per avare i denti? Aspetta, credo che tu non sei il re bambito. Ti spiego meglio. Quel gatto che ho portato al balcone è ancora vivo. Quindi ci stavo la barchetta magica. Che cos'è di questa roba? Non lo conosco. Visto che sei Babbo Natale, ultima volta. Oggi, magari non ero bravissima bambina. Ho mangiato tanti dolci. A volte ero cattiva. Ma restiamo stare. Adesso vediamo se sei brava o no. Volei solo una slitta. Allora, Babbo Natale. Oggi ha perso uno cliente. Basta! Ciao ragazzi, mettete 50.000 like. Guardate mio YouTube grande e migliore e vi amo. Ciao! Ciao!